ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video eccoci qui finalmente con la prima puntata la prima ricetta della sfida della pentola d'oro vi lascio in infobox tutte le info di questa sfida adesso vi faccio vedere che sto scegliendo appunto la ricetta con le ruote che ho creato sull'app sul telefonino la prima è avocado ripieni dice difficoltà nessuna vediamo per fare questa ricetta ci serviranno in teoria servivano gli scampi ma siccome erano solo da pulire e io non pulisco questi animali ho preso le mazzancolle le colle di mazzancolle tropicali sgusciate precotte poi il brandy o il cognac quattro uova quattro avocado maturi io le ho presi qualche giorno fa hanno maturato e quindi adesso li possiamo mangiare un vasetto di maionese ma in realtà non ne serve così tanto ne serve una tazza però comunque la maionese e poi io ho scelto queste carotine a julienne e vedrete poi dopo perché comunque o carote normali e poi le grattugiate oppure carote così già a julienne per prima cosa mettiamo a bollire le quattro uova come seconda cosa andiamo a cuocere le code di mazzancolle o se voi volete prendere gli scampi prendeteli io li faccio al vapore ma se voi preferite potete anche farli bollire intanto che le code di mazzancolle cuociono io vado a pulire gli avocado semplicemente si tagliano in due e poi con dei movimenti un po oscillatori diciamo muovendo l'ossicino si tira via 1 volta le vatto rosso da tutti prendiamo una ciotola e andiamo a scavare l'interno levandone una buona parte ma nello stesso tempo lasciando un bordo fatto a punta di avocado dopo che l'abbiamo levato da tutti lo andiamo a schiacciare molto bene nella ricetta diceva di aggiungere un bicchierino di brandy io siccome lo devono mangiare anche i bambini ne ho aggiunto un dito scarso come potete vedere e ne è andato tutto bene non si sentiva troppo e quindi se lo devono mangiare anche i bambini così va benissimo ho aggiunto poi 4 cucchiai di maionese nella ricetta diceva solo 2 però siccome io ho dovuto raddoppiare le dosi ne ho messi 4 vi chiedo scusa ma non mi ero accorta che era andata fuori fuoco e quindi lo vedete un po' così appannato ho poi aggiunto anche il prezzemolo in foglie all'intirca un cucchiaino io ho usato questo qui secco nel barattolino ma se voi avete il prezzemolo fresco e lo trittate è consigliato anche nella ricetta vado poi a trasferire la cremina in una ciotolina in un contenitore più piccolo e la tengo da parte a questo punto abbiamo tutto pronto e possiamo partire con l'impiattamento prendiamo il nostro metà avocado scavato lo mettiamo al centro del piatto intorno andiamo a mettere le code di mazzancolla o gli scampi puliti in modo da formare un cerchio tutto intorno e poi dentro l'avocado andiamo a mettere le carotine a giulienno oppure le carotine grattugiate andiamo poi a posizionare sopra le carote metà di un uovo e così il piatto sarebbe finito se poi vi piace potete aggiungere sopra un pochettino di salsa e un cappero io l'ho aggiunta solamente a qualcuno perché a Maurizio per esempio i capperi non piacciono io spero che questa prima video ricetta della pentola d'oro vi sia piaciuta se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate se proverete a farla e se vi è sembrata facile veramente come dice il libro e noi ci vediamo prestissimo con la seconda video ricetta ciao ciao 1, 2, 3, come on come on, come on Ah!